Allenatore, vorrei capire intanto che cosa si prova a tornare qua dopo nove anni in un'altra veste, questo è un ambiente infuocato, l'hai detto già l'altra sera, è la tua prima partita d'allenatore in Europa, un risvolto emotivo di questa trasferta? In questo motivo sono contento di esordire in Europa, non era molto preventivabile qualche tempo fa, il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia, l'anno scorso l'ho passato la sua festicciola, mi avevano esonerato un paio d'ore prima, quindi l'umore diciamo, ecco mi dispiace di non essere lì con Olivia ma l'umore è un po' opposto e quindi devo essere anche grato, ogni tanto bisogna un attimo fermarsi e rendersi conto che a volte siamo fortunati, non solo ricordarci di quando le cose vanno male, quindi sono contento, soddisfatto e voglio approfittarne. L'atmosfera sarà un fattore? Sappiamo che c'è stato da quella partita che ho giocato io fino ad oggi, ci sono stati altri incontri fra Roma e Feyenoord, ci sono state altre sfide, anche con qualcosa di importante in palio come lo sarà domani, quindi probabilmente sì ci sarà un clima infuocato, però insomma poi ci sono le righe del campo e lì dentro ci vanno i giocatori, si gioca il calcio, ci vanno gli atleti, le idee e quindi dobbiamo pensare a quello. E per Miles Villar, vedendoti qua in conferenza stampa dobbiamo supporre che tocchi a te domani, a che punto ti senti del tuo percorso alla Roma? L'anno scorso, sono quattro partite, quest'anno sono già otto, è l'inizio di una nuova carriera per te qui? Prima io penso solo a domani, non ho pensato in questo modo di otto partite o quattro partite l'anno scorso, stavo facendo bene quest'anno e spero di fare ancora bene e di fare una grande partita domani. Buonasera, io a Daniele volevo chiedere questo, domani sarà chiaramente una partita speciale per te ma in Europa ne hai vissute tante anche da calciatore, ecco se ne dovessi scegliere una del tuo passato quale sceglieresti? In Europa? Non lo so, abbiamo visto tante pelle, tante negative perché poi alla fine non abbiamo mai tirato sul trofeo quindi non abbiamo mai vinto l'ultima partita dell'anno. Però tante volte ci siamo insomma anche ricompattati, ricordo anche qualche 7 a 1 dove siamo usciti dallo stadio a pezzi e poi ci siamo ritirati su, la vita del calciatore, dello sportivo, dell'atleta in generale, all'interno quello che non si vede è anche ricca di momenti così e ti danno tanto, no? Riuscire a ritirare su la squadra, l'umore, la condizione mentale e a riportarti i tifosi alla parte tua anche dopo serate molto negative. Poi ovviamente devo scegliere forse un episodio, forse perché quello un po' più recente, Roma-Barcellona 3-0 è stata una notte indimenticabile per la forza dell'avversario, per la condizione psichica dell'Olimpico e ambientale e acustica che è stata una notte assurda. E quindi forse sceglierei quella, ma poi ci sono state tante altre meno eclatanti, ma c'è stato un periodo in cui ci siamo veramente consolidati come una squadra che arrivava spesso e volentieri fra le prime 8 d'Europa o fra le prime 16. Penso che la destinazione sia quella, noi dobbiamo ritornare ad essere quel tipo di squadra là. Invece a Mille volevo chiedere dal punto di vista della metodologia degli allenamenti, se è cambiato qualcosa nel passaggio da Mourinho a De Rossi, se per voi portieri in uno specifico. È cambiato qualcosa? Ha cambiato un po' ogni allenatore ha le sue idee, il mister ha le sue. Si è cambiato un po' più costruzione dal basso e un po' più alto, che il portiere sta un po' più alto, ma alla fine si gioca 11 contro 11. Grazie. Grazie. Prego. Silvia. Le volevo chiedere due cose, innanzitutto di Pellegrini, che è un giocatore che in queste quattro partite sembra abbastanza ritrovato, volevo capire però ha subito un inizio di stagione un po' difficile, secondo lei come sta in questo momento, come si sente. Poi sulla partita è sbagliato pensare domani di trovare il risultato a qualsiasi costo, a qualsiasi modo di giocare, oppure vuole vedere ancora un processo di crescita che si è visto in queste quattro partite? No, riguardo Pellegrini, io valuto quello che ho visto da quando sono arrivato qui, penso che sia più corretto, penso che ho più strumenti, ho più attrezzi in mano per poterlo giudicare, sia come essere umano, come guida per i propri compagni, perché comunque è il capitano, sia quello che ho visto tutti quanti in campo, io non potrei essere più contento, continuo ad essere un esempio, continuo a migliorare, ma non solo fisicamente o tecnicamente, ma ogni partito, ogni elemento fa sempre più cose simili a quelle che vorrei vedere in campo io, quindi sintomo che ci capiamo, che capisce quello che chiedo, come tanti altri giocatori, come tutti gli altri giocatori, perché io posso solo ringraziarli per l'attenzione che stanno mettendo, per quello che poi insomma mi stanno dimostrando anche nelle partite. La seconda come era? No, il risultato, il percorso era bello e comodo e morbido, se fossimo all'8 luglio, sì, fai la partita contro i Boscaioli e il risultato viene in secondo piano perché sai che è già acquisito, poi la seconda amichevole e il risultato viene in secondo piano perché non succede niente, qui il percorso lo fai e nel frattempo devi vincere le partite, perché comunque, veniamo giudicati, perché comunque la classifica era quella che era, quindi dobbiamo vincere tante partite, il risultato è sempre tanto importante, lo è per me, lo è per qualsiasi altro allenatore, non esiste un allenatore, intanto voi parlare dei risultatisti e giochisti, che è una roba che fa ridere, perché il risultato è fondamentale per qualsiasi allenatore. Abbiamo due colleghi hollandesi, quindi magari metti le cuffie. Question from Mr. Dolossi, we've obviously seen Feyenoord play Roma a few times the past couple of seasons, how different is your Roma in terms of your style of play compared to the one we've seen for Mourinho? Ti rispondo in italiano, ok? No, non posso dire quanto sia differente, ogni allenatore arriva, porta qualcosa di suo, qualcosa può cambiare. Io ho studiato parecchio la Roma di Mourinho perché dovevo sapere dove andavo a mettere le mani, e soprattutto l'ho vista sempre perché prima era un semplice tifoso, quindi le vedevo sempre le partite, non saprei dire quanto è differente, è una Roma che ha ottenuto comunque con Mourinho ottimi risultati, soprattutto in Europa, quindi spero che da quel punto di vista non sia troppo distante, perché è una squadra che è arrivata in fondo per due anni consecutivi, quindi dobbiamo prendere anche esempio da quello che è stato quel percorso, però poi dopo ogni allenatore ha la sua visione, la sua idea, le sue preferenze, quindi qualsiasi allenatore porterà in una squadra, darà sempre qualcosa di diverso da quello precedente. Come vedi il Feyenoord nella sua forma attuale? Vedo una squadra che ho studiato più attentamente in ultime settimane, ma era già una squadra che mi aveva impressionato quando l'avevo vista all'Olimpico nell'ultima partita di Europa League, è una squadra che sa giocare a calcio, con dei giocatori molto interessanti, soprattutto gli esterni sono giocatori di grandissima qualità e di gamba, quindi ho grande rispetto per come giocano e per gli elementi, insomma, gli individui che giocano all'interno della squadra. Penso che sarà una bella partita, penso che nelle sfide precedenti c'è sempre stato, al di là del fatto che ha vinto sempre a Roma, c'è sempre stato grande equilibrio e quindi mi aspetto una partita difficile. Gimenez ha ancora dei dubbi, se il Feyenoord giocasse con Gimenez, se cambriera il tuo approccio? No, è un giocatore molto importante, molto forte, è un centravanti, penso che se non dovesse giocare lui giocherà il suo sostituto, abbiamo insomma visto anche le caratteristiche individuali di ogni giocatore, quindi siamo abbastanza preparati, è ovvio che Gimenez è un giocatore molto forte. Gimenez è un'altra curiosità per capire a che punto è la squadra dal punto di vista fisico. Con cinque giorni di distanza rispetto all'Inter, come ce ne erano stati cinque rispetto alla partita precedente, l'idea è quella di utilizzare molto di più la panchina nella formazione titolare oppure quello può essere rimandato a Frosinone, al di là della priorità tra i due impegni, parla proprio dal punto di vista fisico. Io penso che qualche cambio verrà fatto, soprattutto non solo per la partita di Frosinone, non solo per l'importanza ma perché ho fiducia in tutti gli elementi della Rosa, veramente non solo a chiacchiere, non mi piace però fare 10 cambi a Frosinone, 11 cambi a Frosinone perché snatura troppo quella che è lo scheletro della squadra e perché mette in difficoltà quegli 11 che entrano tutti quanti in blocco a volte, quando giocano tanti giocatori che magari non hanno spesso giocato insieme, fai una partita di turnover, spesso non è un gran vedere e spesso non li metti in condizione per fare la loro miglior performance, quindi magari se dobbiamo cambiare, cambiamo, ma non ci saranno mai 11 giocatori che entrano, 11 giocatori che escono, a meno che non facessimo amichevole tipo l'inarabbia. Voi Alessandro, vorrei andare nello specifico, pensi che Angelinio ha bisogno di riposare e magari invece Spinazzola ha bisogno di mettere un po' più di minuti nelle gambe, quindi la scelta secondo te insomma su che cosa andrà? No, la scelta verrà fatta insomma anche in base a mille cose, un po' al fatto che anche l'ha giocato poco negli ultimi mesi, che ha giocato due partite di seguito, il fatto che Spina è tornato e sta bene, il fatto che io veramente amo quanto sono diversi, amo avere due terzini sinistri così diversi, insomma a partire dal fatto che uno è mancino e uno è destro, a partire dal fatto della loro stazza, della loro gamba, delle loro qualità balistiche, sono molto diversi e questa diversità mi piace quando riesci a costruire una squadra, avere in determinate posizioni anche giocatori che sappiano affrontare e preparare e giocare in un ruolo in maniera molto diversa tra loro, secondo me è un vantaggio per l'allenatore perché ogni partita è diversa dalle altre, quindi è un ruolo dove siamo coperti da due giocatori molto forti e sono tranquilli nella scelta, ma non è un discorso solo legato alla condizione fisica, è un discorso insomma legato proprio al fatto che vorrei farli giocare il più spesso possibile, tutti e due, tutti e due è un po' difficile, ci proveremo ma è un po' difficile, sì sì sta bene, sta bene con la schiena, ha avuto un po' piccoli problemi, ha sempre un paio di volte l'anno, niente di gravissimo ma è partito con noi può giocare. Grazie. Brutto, è un peccato, è un peccato, l'avevo detto già prima di andare a Salerno, è un peccato giocare senza tifosi ospiti, non so se penso non verranno neanche i tifosi del Feyenoord a Roma, non lo so, quindi è un peccato doppio, è un peccato doppio perché spesso e volentieri in passato anche le tifoserie ospiti ci hanno dato insomma delle dimostrazioni di come si possa rifare la propria squadra con amore e ovviamente quelli della Roma ci hanno accompagnato nei miei 18 anni ma anche prima ovunque in giro per l'Europa e nel mondo quindi insomma è veramente un peccato, insomma cerchiamo di giocare anche per loro e di portare a casa un risultato buono anche per loro.